Arriva la quarta vittoria stagionale per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che alla Vitrifrego Arena batte nettamente la Nutribullet Treviso con un convincente 95-76 che la spedisce a 8 punti in classifica. Pesaresi che incassano il forfait di Ford per un problema fisico nelle ore precedenti alla palla 2 ma che approcciano bene la contesa mettendo il muso sempre avanti in ogni fase del match che viene chiuso sul 48-39 all'intervallo. Nel terzo quarto la Vuel allunga costruendosi un tesoretto solo da gestire nell'ultimo parziale per confezionare una vittoria meritata che mette alle spalle il brutto scivolone di Cremona. Top scorer Bamford e Totè con 23 e 22 punti a referto. Nella Serie B di basket cade invece sul gong Little Service Loreto che perde 68-66 lo scontro al vertice di Matelica. Nel calcio vittoria di piramidale importanza per la Vispesoro che trova il primo successo esterno della stagione. A Lucca i biancorossi vincono 2-1 grazie ad una doppietta di Silla nel primo tempo, al diciottesimo su rigore conquistato dallo stesso centravanti e cinque minuti dopo su colpo di testa servito da Assis di Pucciarelli. La lucchese accorce un'apertura di ripresa con Rizzopinna che approfitta di un pasticcio difensivo ma che non guasta la festa della Vis che si dimostra capace di soffrire e portare a casa i tre punti. Vittoria anche per l'Ital Service che nel venerdì del Palamegabox batte 2-1 Verona con dedica al ricordo di Luca Casagrande, ex dirigente biancorosso, parte integrante della famiglia Italservice, prematuramente scomparso in settimana. La squadra di Scarpitti vince grazie ad una doppietta di Murillo Schiochet che ribalta l'iniziale vantaggio veneto dando corpo ad una vittoria meritata alla luce anche delle tante palle gol sprecate che potevano gonfiare un punteggio più sostanzioso. Nella pallavolo dopo una preoccupante serie di sconfitte torna a vincere la Megabox Vallefoglia e lo fa sul campo della Itas Trentino. Dopo un primo set molto combattuto vinto in volata 26-24, gli altri due parziali hanno visto la Megabox tenere in pugno la partita senza affanni con un 25-18 e 25-14. Esulta anche la Fiorini-Pesero Rugby che al Tecno World Rugby Park di Muraglia trova la seconda vittoria stagionale battendo 33-31 Casale al termine di una gara tiratissima in cui Pesero conquista punti preziosi in un match segnato dalle quattro mete a firma di Paletta, Badone, Tontini e Dal Pozzo.